Sei pronto? Oh, ci stanno riprendendo, via! Veloce, dai! Ciao a tutti, sono Arte, della classe quarta A della scuola Matteotti. Era molto difficile stare lontano dai miei compagni di classe perché ci divertivamo insieme, invece a stare a casa vado fuori di testa. Però per fortuna è che ci sono i miei giochini online, dove si può parlare con altri amici, anche se la mamma non piace molto. Invece, gli piace quando io leggo. Non c'è una cosa positiva in questa quarantena, sono stata di più con i miei genitori, ho fatto altre cose, cioè niente. Sto scherciando, un po' di cose l'ho fatta. Prima ho imparato a fare le pulizie a casa, che è una cosa positiva. Secondo, ho aiutato sempre la mamma a fare i biscotti, muffin, pizza, e certo dopo me lo sono mangiato tutto. Tranne la torta di mela, perché quello non mi piace. E tu che ci fai qui? Va a pulire la casa. Comunque dicevo che non solo facevo quello, ma facevo anche le lezioni online. Ah, aspetta, è già, le fanno tutti. Volevo anche ringraziare le maestre, che anche se eravamo a distancia, ci hanno fatto imparare cose nuove. Ad esempio, ad esempio, che il mondo è piatto. Ah no, aspetta, è rotondo. What do we did? Si dice, what do you want? Gia, sto facendo il video, lasciami stare. Mmm, veramente. Però, se senza scherzi, le maestre ci hanno veramente insegnato tantissime cose, e le ringrazio moltissimo. Purtroppo vi devo alassare, perché voglio leggere un libro. Quindi, ciao a tutti. Tanto tempo fa, c'erano i tre porcellini. Che c'è? Ciao! Ciao! Buongiorno, mi chiamo Artem. Quindi non so niente come... Ma la... Mi chiamo Anna. Oh, ci stanno riprendendo? Che bello! Tanto dopo... No, le chiamo... Ok. No, oh, so... Vai. Muffing. Ad esempio... Che il mondo è piatto. No. Ahahah... Oh! Oh! Oh!